Il vaccino è la via che ci potrebbe portare a liberarci da questo virus e voltare pagina. La storia è piena di posizione contro i vaccini. Fatto il vaccino, fatto l'antivaccinatore, si parte dal capostipide di tutti i vaccini, quello contro il vaiolo di Jenner, che fu una grandissima intuizione che ci portò poi alla prima e unica eliminazione totale di una malattia, di una grave malattia nella storia dell'umanità, ma poi anche andando avanti, anche in altre situazioni, guardi ad esempio l'ostilità che c'è nei confronti del vaccino antinfluenzale, in particolare per quanto riguarda l'anti H1N1, ma insomma non c'è né razionalità né credo buona fede in tutto questo. Io l'ho chiamata perché qui a Frosinone abbiamo avuto questa situazione veramente incredibile che il virus ha colpito 14 giocatori del Frosinone. Sì, me l'aveva preannunciato. Sì. E purtroppo non è una situazione incredibile. Questo virus si diffonde in una maniera abbastanza particolare. A volte basta una persona con un'alta carica virale, un cosiddetto superdiffusore, che riesce, questa sola persona, inavvertitamente, perché spesso sono del tutto asintomatici, cioè non hanno sintomi questi superdiffusori, che riesce a infettarne tanti altri. In un gruppo come quello vostro probabilmente c'è stata una circostanza sufficiente perché un po' un superdiffusore abbia diffuso il virus a gran parte della squadra. Le sembra corretto che di fronte a questa situazione il protocollo sia così coercitivo, cioè con il rischio magari di mandare in giro squadre che hanno il problema, non le sembra che sia stato un po' un controsenso? Se da una parte si tiene la gente chiusa in casa, la si costringe, fra virgolette, nell'interesse della salute, non è una dittatura, è un interesse della salute. Le sembra normale che poi c'è un protocollo che è così coercitivo, così duro, cioè se sei nelle condizioni di giocare devi giocare e sono perdi la partita a tavolino. Quando è stato fatto il protocollo in questione la situazione era anche più pesante di questa. La scelta era giochiamo i campionati o non li giochiamo, giochiamole, ma questo non riguardava trasversalmente tutti gli sport agonistici, tutti gli sport professionistici e semi professionistici. Alla fine dei conti bisognava decidere o sì o no. E per dire sì bisognava che venissero poste delle soglie e queste sono state le scelte. Non c'è nulla nel mondo che non sia perfettibile, per carità, però queste scelte sono state prese a suo tempo, sono state attuate a suo tempo e la loro applicazione ha un senso, anche se francamente sono tra i primi a dichiararmi costernato dal fatto che comunque è evidente che quest'anno i campionati sono stati tutti pesantemente condizionati da una realtà di questo tipo. Ripeto che mi auguro che sia una cosa che ci potremmo lasciare rapidamente alle spalle nel momento in cui appunto Santo Vaccino ci mettesse nelle condizioni di volta a pagina. Ecco, siccome l'abbiamo chiamata da Frosinone, mi raccomando, da stasera un po' di tifo per il Frosinone, glielo chiedo. Frosinone è fin troppo ovvio, quando uno dice che mi ha sempre dato abbastanza simpatia anche appunto per la sua avventura sia in Serie A che in Serie B, di squadra tosta e determinata, insomma è fin troppo facile fare un'osservazione in questo tipo quando si parla appunto in casa del Frosinone. È una cosa evidente che lì dalle vostre parti ce l'avete messa tutta e avete avuto anche dei risultati importanti, insomma.